Pronto, buongiorno, sono Roberto Piovesani dal Solterro. Sì, pronto, buongiorno. Non so se ti ricorda di me, se l'avevamo visto la settimana scorsa, ero passato di giro nella vostra azienda a presentarmi. Ah, sì, sì, ho ricevuto il suo catalogo. Ah, ok, senta, volevo chiedere una cortesia, se possiamo avere un appuntamento in questa settimana perché volevo passare a proporre e descrivere meglio qual è la nostra attività. No, guardi, non ci interessa, abbiamo già un sacco di fornitori e ci bastano. Beh, mi sta dicendo che non interessa risparmiare su questi prodotti? Ma no, è che già hanno dei prezzi molto validi, ho già confrontati con altri fornitori e in effetti sono più bassi rispetto ai normali concorrenti. Beh, sicuramente, ma non ha provato i miei, quindi mi dia opportunità in settimana, passo di lì, mi deve trovare solo dieci minuti per farle vedere, per dimostrare cosa so fare, cosa so, insomma, ecco, capisci? Eh, guardi, però ora io sono impegnato. Senta, facciamo una cosa, senta, non stiamo qua a girare tanto intorno, io vengo mercoledì, mercoledì intorno alle 4, 4 e mezza da prova? Sì, sì. Allora, niente, ci vediamo, martedì alle 4 e mezza vengo da in ufficio, tempo mezz'oretta, le descrivo due cose e poi sarai a decidere come al solito, no? perché sennò se stiamo qui tutte le volte io, 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 non concludiamo mai niente, no? Ok? Eh, va bene, va bene. Eh, ok, così mi piace, le ringrazio, ci vediamo mercoledì, arrivederci, buongiorno. Arrivederci. Ciao. Ciao.